abbiarci per noi incredibili io non ho niente boss non ho assolutamente niente come fa la gente a scendere proprio con lo scudo niente io sono morto non ho armi ah no ma ce li ho un attimo hai ucciso tu? no io stavo salendo quindi c'è qualcuno che l'ha ucciso un attimo vai vai pusha 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 easy a terra sono andato easy l'altro è vivo però è perché eh si non è stato eliminato dal primo colpo l'ho eliminato io ma era a terra c'è un tizio c'è un tizio qua dove è? qua aspetta qua più o meno qua io non la vedo ah ok easy kamehameha ancora ragazzi di cattiveria kamehameha di cattiveria vai cosa vuoi prendere? io prendo questo perchè non ho armi ok andiamo già in safe vai che si allontani no no a me stavano l'uragano boss mi spiace mi devo chiudere la finestra eh vai vai quello è un tizio? oh senti mi hai rotto il cavo ma è un muoio in arco però cazzo di me spara no spara non lo so porca te oia eh cieco cieco ventiquattro blu oh cazzo vai scoperto scoperto ventiquattro blu ventiquattro blu ventiquattro bianco 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 no no oh c'è qualcun altro forse il compagno oddio è bianco anche lui eh ok nuvola vai fa il culo vai verso la safe vai verso la safe dall'altra parte pieno pieno dicendo oh uno sul ponte vicino su sotto eh li ho visti li ho visti li ho visti li hai visti? boss 23 23 orca te oia sono in vista un botto ventità blu era uno era uno era super morto c'è un altro che attraversa il ponte che si fa quello porca te pieno di gente pieno di gente si fightano si fightano dove 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 ma dove ok ok assist ok 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 eh là 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 è sempre quello blu eh niente non muore non schiatta eccolo preso preso no non ho più monelle non ho più monelle boss devo andare a cercare monelle le finite del cecchino le finite ma sei te di cazzo e la madonna uno con la nuvola porco porco vi entra in una casa entra in una casa quel cazzo c'è boss vieni 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 c'è lo scar viola mi sa dai dai prendi lo scar viola ciao ma che cazzo sta venendo giù fuori ne vedo uno dietro di noi dove sono io 25 blu c'è la coppia eh vabbè boss qua dove sto sparando tento eh mi prendi uno dei due eh sono in 50.000 no scappa eh vabbè siamo fottuti no siamo fottuti boss scappa è finita vai 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 fatti la nuvoletta non ci credo mi ha mi ha fatto fuori con la camera è assurdo dai boss eh niente non ho arma ma c'è ma cosa stai facendo avevo solo quell'arma che cecchino che ha gli avuto la roba per ballare e poi l'ha lasciato lì e non avevo un nuovo blu arrivo vado a tirarla intorno al cane va venn 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 io posso due cari cioè il cane che da l'altra parte ha provato tutto chiamarlo un po' voleva lì sto così a caso c'è casissimo no sbagliato sbagliato al posto scudillo al posto scudillo selezionato il l'arma mi sparano mi sparano a sit e ma chi cazzo stanno no 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 non ci credo perché ho visto che eri te è già la seconda volta che ti fai portare da quel cazzo di avanti vai fai nuvola fai nuvola dovrebbe segnalare bene uno vicino mai fuai safe vai non lo so si può essere dentro che c'è gente c'è gente c'è gente in giro è se è morto non lo posso che culo il cileto poi basta spararmi io sono fottuto cioè non so se hai capito questa cosa riusci a venire da me eh boss cioè sono pieno di persone in giro non so neanche ci sono due che sono passati davanti a me te lo giuro io immobile non mi hanno visto adesso mi stanno inseguendo ovviamente la mia domanda è perché tu sei andato via perché mi spavano ma cosa mi hai animato a fare se poi mi lasci di così che erano niente eh ma non rianimarmi figa che c'è non c'è niente che non rinasco eh scappa beh inizia a scappare adesso non pensai a me eh per fuori non è in safe c'è la persona davanti a te hai vista? due quello mi sa quello mi ha ucciso quello sai perché mi ha ucciso un Goku beh questo è la bella no sono un idiota non ci credo no per te vale idea cioè sono saltato per penne il tempolino mi sono schiantato eccoli eccoli questi eh metti il ping io non mi credo buono non mi credo io ah ah troppa io so non c'è non è che sto tanto bene di vita aspetta qua sotto dove lo so lo so vi è ma pure il cinghiale mi viene addosso pure il cinghiale non so c'è anche il lupo adesso non lo so qualcosa altro mi tirano ancora addosso mica siamo al limite così bella roba buona prenditelo prendete mi prendo fuoco oh aiuto sono sceso sono sceso è bianco è bianco scappa 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 hatto mi fanno tantissimo dj vabbè su ragazzi perché non usa troppa kammaeha dura aschia iddiot da me in finito mi chiedo sti cose ma che stanno arrivando scappa scappa con le due no 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 vildi niente vabbè è impossibile poi avevamo pinnacoli cioè